All'azienda agricola biologica Trevotti a Castiglione, Caterina, in provincia di Indrebo, dove si sta realizzando un evento particolare, la figgiatura dell'ua. Guardate i bambini qui che stanno continuando questa tradizione della figgiatura dell'ua e noi stornelatori di Roma li accompagniamo a rettolo di stornelli con la famosa gira di Castelli. Guardate i bambini che danzano quella musica. Questa è per loro, per i danzatori, accende una rettola. Questa è per loro, per i danzatori, accende una rettola. Questa è per loro, per i danzatori, accende una rettola. Questa è per loro, per i danzatori, è per loro, per i danzatori, eccetera. Sono meglio che lo champagne, mi limite se niente vanno a scagnare. Guarda il tuo regno è, lì tra lì ha tutto a piano, sopportare il vergano. Guarda il tuo regno è, lì tra lì ha tutto a piano, sopportare il vergano. C'è un tema canta, i senti non spaventano, e non è un'unica mia, non è un coro che senti, non è un coro che senti, non è un coro che senti, non è un coro che senti. E viva l'azienda agricola biologica Trevotti, qui a Castiglione di Severina, con gli stornellatori di Roma che sono venuti a onorare queste belle tradizioni, con la figgiatura dell'uo, e poi ci sarà un grande pranzo in una di queste feste, anzi noi ringraziamo il direttore di questa azienda agricola biologica che ci ha onorato di poter portare un po' delle nostre tradizioni di Roma qui. Ciao Luvico, dal maestro Masci e ai missionatori. Facciamo un applauso a tutti. Eccolo Luvico, bravo Luvico. Luvico, azienda agricola biologica Trevotti, guardate quanti bambini, ciao.